ragazze sono da primark mai venuta guardate qua che sono belli questi specchi molto belli questi sono invece specchietti per la borsetta guardate che carini e guardate che sono belli questi beauty case wow guardate con le lettere con gli strass più chiaro di questo qua ci sono altri beauty beauty case guardate questi saranno fondotinta sì infatti fondotinta queste sono le cose per i capelli questo è il turbante io ce l'ho non lo uso mai per quel che gli serve lei queste sono tutte le cosine in plexiglass per mettere i pennelli i trucchi i bigotini guardate che sono belli questi bigotini cioè oltre all'utilità li fanno anche belli questi sono i fermaglini che per ora vedo a tutte le youtuber quando fanno i video si mettono queste mollettine pennelli 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 i kabuki questi sono i kabuki no beh a me queste cose con con gli strass mi fanno impazzire guardate m di marianna guardate che belli che bellino questo costa 8 euro ma guardate questo che bello ragazze questo mi piace un sacco ecco questo è 7 euro guardate che belli e anche questi guardate guardate che belli anche questi questo costa 9 8 euro un amore no ma questo mi piace troppo ragazze questo beauty me lo devo prendere troppo bello troppo bello qua ci sono pigiami sempre beauty case anche questo rosa righe guardate ma io ne ho tanti beauty case che non ho più dove metterli certo sono belli fanno gola allora vediamo che cosa c'è qua però non ho capito io una cosa il marchio qual è di queste cose blu ci sono tutti fondotinta no vi devo dire ragazze che come come trucchi direi di no però magari un beauty di questo piccolo è un po' trasparente per andare al mare per metterci qualche cosino mi piace sai questo è quello che si apre questo è comodo quando si parte c'è 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 queste che sono le spazzole per togliere i pelucchi caldorato va bene andiamo avanti settore pigiami ad esempio mi piacerebbe questo vassoio che vendono pure qua vediamo io non so neanche se c'è qua un reparto casa o qui c'è la bigiotteria ecco accessori per la casa allora mi sa mi sa forse che qualche cosina per la casa qua la trovo vediamo amore qua sei amore me lo fai mettere questo qua si belli belli sono questi mi fai mettere questo e perché hai preso una maglietta a guarda che bello questo allora vediamo che cosa c'è se c'è questo vassoio che mi piace per la casa piante finte fiori wow l'ho trovato i vassoio ragazze che sono contenta ragazze l'ho trovato eccolo qua 8 euro questo vediamo questo qua e 8 euro questo non so se prendermi questo così o quello rotondo non lo stesso prezzo ora siamo usciti a 45 ci controlliamo ci controlliamo andiamo dai vieni con me e 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